Reduce dai pareggi in campionato e Coppa Italia di domenica e mercoledì scorsi, rispettivamente contro il Campobello di Mazzara e l'Aragona, il profavara di Mr. Crescenzo domani sul proprio terreno di gioco è impegnato nel derby contro il Cianciana. Allo stadio Bruccoleri con fischio d'inizio alle ore 15.30, i gialloblu cercheranno la vittoria che manca dal 4-0 Casalingo contro il Borgata Terra 9. risultato questo ottenuto, contestato ed infine convalidato dalla Lega di Lettanti. La sesta giornata del campionato regionale di promozione Girone A complessivamente offre ai tifosi anche un altro derby a Grigentino, ovvero Raffadali-Aragona. Ma vediamo adesso nel dettaglio il quadro completo degli incontri e le relative designazioni arbitrali. Cani cattivi in Labbate, arbitro Emanuele Orazio Urzi di Catania, Capaci Strasatti, Stefano Bortoluzzi di Sandonà di Piave, Prizzi Borgata Terra 9, Riccardo del Popolo Carciopolo di Caltanissetta, Profavara Cianciana, Alessandro Cutrufo di Catania, Raffadali-Aragona, Fabio Barone di Marsala, Salemi Isola delle Femmine, Giovanni Sanso di Agrigento, Sciacca Ciminna Massimo Vecchio di Palermo, Sporting Arenella, Campobello di Mazzara, arbitro Giovanni Fuguccia di Marsala.